Ha sofferto decisamente più del previsto, Crema contro lo Yadam Trieste. Yadam da registrare con un nuovo slancio, una nuova grinta, nonostante il risultato finale di 88-77 per la formazione cremonese. Il Trieste aveva cominciato bene quando con il parziale di 4-0 segnati con appunto due canesti da parte di Carlo De Petis. Le Yadam non ha accusato e ha rimesso la testa avanti dopo che invece Crema aveva reagito. Per quel che riguarda il secondo quarto, nelle file di Trieste si è scatenato il rientrante Diviach molto atteso, che si è caricato con la squadra sulle spalle e ha finalizzato quasi tutte le azioni offensive del Triestini, terminando il primo tempo con 14 punti e 7 su 7 dal campo. Crema ha poi ottenuto poco da Ferdi e Colinago, ma ha trovato ottime risposte con Cardellini e ha avuto un positivo riscontro da Manueli. La vittoria per quel che riguarda Crema è importante anche se per Trieste, invece la ripresa con Diviach sicuramente farà bene sperare per un proseguo di campionato con un'alta marcia.